torniamo a parlare di mercato quindi come dicevo perché so che vi piace molto parlare di mercato anche mentre facciamo la cronaca delle partite in diretta qui sul nostro canale vedo che in molti mi fate domande mi mandate dei commenti relativi appunto al calcio mercato le trattative nome in vista di gennaio non solo quindi ho deciso di parlarvi di un nome interessante da tener d'occhio per il mercato dell'inter tra l'altro se volete tener d'occhio tutte le notizie di mercato e non solo vi consiglio di scaricare l'app one football con cui seguire anche tutti i risultati delle partite in tempo reale e le statistiche delle varie gare vi lascio quindi il link in descrizione per scaricare gratis l'app one football dicevo parliamo di mercato e parliamo di vado a condividervi la scheda dal sito specializzato transfer market nicolo rovella come avete già visto anche dal nostro banner in sovrimpressione centrocampista classe 2001 di proprietà del genoa formato e cresciuto nel settore giovanile genuano questa è la sua scheda con le varie caratteristiche che potete trovare appunto sul sito transfer market ha fatto la trafila delle nazionali under nel giro della prima squadra del genoa già dalla scorsa stagione dove aveva collezionato due presenze tra l'altro curiosità tutte e due le presenze contro l'inter andata e ritorno nel campionato di serie a diciannove venti e poi salito definitivamente in prima squadra in questa nuova stagione venti ventuno è stato favorito diciamo anche un po' dai tanti casi covid di positività che si sono presentati all'interno del genoa in questo video di stagione non solo però perché anche meritato di prendersi spazio è partito in panchina nelle prime due giornate poi però due presenze da titolare contro il verona 79 minuti giocati appunto da titolare come detto e ancora una volta curiosità contro l'inter proprio l'abbiamo visto nell'ultima sfida di sabato scorso in cui ha giocato 84 minuti di fatto ha giocato solo contro l'inter quasi in serie a rovella prestazione molto positiva sabato mi ha colpito questo giocatore molto molto interessante contro l'inter diciamo che è anche un po' spiccato in un genoa che oggettivamente non è uno squadrone anche quest'anno nonostante un allenatore di grande esperienza e diciamo che è emerso un po' all'interno di questa squadra si è fatto intravedere si è fatto vedere bene nonostante appunto i 19 anni appena è stato schierato e sta giocando in posizione diciamo di mezzala in questo centrocampo a cinque del tre cinque due di maran e quindi una buona prestazione in cui si è messo in mostra facendo un po' il regista decentrato infatti sono andato a vedermi un po' di dati sulla sua partita ha fatto ben 35 passaggi solo bani in difesa ne ha fatti di più nel genoa quindi il miglior passatore del genoa nella gara contro l'inter anche un ottima percentuale di passaggi riusciti attorno all'ottanta per cento è stato anche nel genere il giocatore che ha fatto più passaggi in avanti quindi è quello che ha cercato più volte di innescare le punte che hanno fatto tanto movimento ma un po' sterile non creando particolari pericoli di andanovic e soprattutto soprattutto nelle statistiche calcolate dalla serie a ha stabilito anche il primato nel genoa per performance di corsa quindi chilometri percorsi velocità raggiunta in media di corsa diciamo quindi una buona gamba un'ottima gamba per essere comunque un 2001 quindi molto interessante un giocatore che già prima del suo debutto in serie a era molto seguito anche a livello internazionale come vedremo tra poco vi racconterò anche un retroscena curioso su rovella ora però soprattutto in queste ultimissime settimane è finito al centro delle tante voci di mercato per un motivo molto semplice come vi facevo vedere poco fa forse lo avrete intravisto oltre ad essere probabilmente uno dei talenti italiani più interessanti in italia e in serie a soprattutto è in scadenza di contratto nel 2021 quindi il prossimo 30 giugno ciò significa quindi che potrebbe accordarsi con una nuova società già da febbraio dal primo febbraio potrebbe accordarsi con un nuovo club in cui trasferirsi poi al termine della prossima stagione a parametro zero la gente è riso se non vado errato che una gente molto che ha molti calciatori interessanti e che ha già fatto negli ultimi anni molti affari con l'inter l'inter che tra l'altro ha storicamente buoni rapporti col genoa come confermato anche dall'ultimo affare pinamonti con l'inter che ha ricomprato pinamonti dal genoa attenzione quindi ai prossimi sviluppi perché le notizie degli ultimi giorni si sono fatte appunto un po insistenti per il momento da quello che risulta non c'è accordo per il rinnovo tra rovella e il genoa quindi si starebbe aprendo concretamente la possibilità per i club interessati di trovare o un accordo col giocatore a parametro zero in vista di luglio come detto oppure soprattutto questa potrebbe essere la via più percorribile un accordo col genoa a gennaio per rilevarlo a delle condizioni diciamo abbordabili e convenienti e poi magari lasciarlo in prestito proprio a genoa per permettergli di completare la maturazione un po come ha già fatto l'inter proprio con il genoa con eddi salsedo proprio l'inter quindi e veniamo alle notizie appunto che vi stavo dicendo sarebbe molto interessata la diligenza nero azzurra e sarebbe sfidando apertamente in un duello già molto acceso la juventus entrambe le società sarebbero molto interessate marotta da quello che risulta starebbe cercando di anticipare le mosse della juventus su questo calciatore del genoa le prossime quindi saranno settimane davvero eh decisive per capire chi proverà più convintamente l'affondo e si parla di un affare come dicevamo abbastanza abbordabile perché una valutazione che si aggirerebbe sui dieci milioni di euro però in discrezioni vorrebbero che eh il genoa potrebbe anche accettare l'inserimento di contropartite o di altri calciatori all'interno dell'affare rovella e così anche la società interessata potrebbe acquistare un giocatore importante ad una valutazione di favore comunque che aiuterebbe il genoa e allo stesso tempo incassare magari anche delle plusvalenze da eh calciatori inseriti e come contropartite in questo affare nell'inter di adesso per caratteristiche eh dubito che sarebbe subito titolare rientrerebbe subito nelle rotazioni quindi diciamo solo come ipotesi di caratteristiche secondo me si integrerebbe comunque molto bene perché Conte eh sta portando come vediamo tutti i centrocampisti lo diciamo anche in diretta a diventare sempre più dinamici tutti toccano tanti palloni e si scambiano spesso di posizione ovviamente rovella come detto non sarebbe da subito nel giro dei titolari si candida però secondo me a diventare in proiezione futura nel prossimo futuro un centrocampista moderno è interessante per lo sviluppo di questa tipologia di centrocampo dell'inter come lo stiamo vedendo soprattutto adesso deve crescere ovviamente un po' a livello di esperienza e a livello fisico l'abitudine della serie A deve un po' maturarla eh però ecco dal punto di vista caratteriale secondo me già dalle prime uscite si sta dimostrando quantomeno molto molto interessante tra l'altro vi dicevo prima vi raccontavo anche un piccolo retroscena eh vi dicevo grandi club lo seguono da tempo uno di questi stavo leggendo proprio in questi giorni mentre mi informavo sul ravello sul Rovella eh era il Chelsea allenato da Antonio Conte quindi tra il duemila e sedici e il duemila e diciotto Conte avrebbe cercato da quello che stavo leggendo in giro di portare Rovella proprio al Chelsea ancora giovanissimo non aveva ancora debutato in serie A quindi già si intravedevano le grandi potenzialità di questo calciatore quindi attenzione a questo nome eh vi terremo aggiornati ovviamente nelle prossime settimane intanto fatemi sapere che cosa ne pensate di Nicola Rovella classe duemila uno fatemi sapere se lo avete visto giocare contro l'Inter visto che ha giocato praticamente sempre contro l'Inter se vi è piaciuto io eh nel dubbio a inizio stagione l'ho preso al fantacalcio perché costava uno veniva indicato da molti come profilo molto molto interessante se ne parlava eh già bene in descrizione ragazzi vi lascio il link al patron di Passione Inter se volete sostenere il nostro progetto come stanno già facendo in tanti e ringrazio tutti i nostri sostenitori trovate il link al patron per avere accesso a molti contenuti esclusivi vi ricordo anche di sostenerci cliccando sul pulsante iscriviti qui è totalmente gratis ma ci date un grande supporto